Musica Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Lucera hanno tratto in arresto un 42enne del posto già gravato da precedenti di polizia perché ritenuto responsabile dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. I militari nel sottoporre l'uomo ad un normale controllo durante un servizio nel centro storico si sono insospettiti per il suo atteggiamento particolarmente teso apparentemente senza motivo ed hanno deciso di svolgere una verifica più approfondita. La perquisizione è quindi stata estesa anche alla sua abitazione ed è stato proprio qui che i carabinieri hanno capito i motivi di tanta agitazione. Il 42enne infatti è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina purissima nascosta nella sua camera da letto dietro un televisore. Nella stessa stanza sono stati trovati anche due bilancini di precisione, alcune bustine di cellophane e un termosaldatore portatile utili per il confezionamento dello stupefacente. Poco prima di allontanarsi dalla casa i carabinieri hanno poi notato anche un'anomalia del contatore Enel che aveva acceso il led che normalmente segnala il malfunzionamento. Nonostante le luci funzionassero regolarmente è stato così accertato che l'uomo peraltro esperto di elettrotecnica aveva realizzato un allaccio abusivo all'illuminazione pubblica. L'uomo è stato così accompagnato presso la caserma di via San Domenico per tutti gli accertamenti del caso e dove alla luce delle evidenze raccolte è stato dichiarato in arresto. Su disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il 42enne è stato opposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Ripartire dalla cura della città, sbloccare i piani sociali di zona, combattere in maniera attiva l'isolamento e la solitudine delle famiglie che affrontano disagio sociale, mancanza di lavoro e difficoltà economico. La CGL di Foggia, sindacato dei pensionati italiani, riparte da queste priorità e dal congresso provinciale che si terrà giovedì 11 dalle ore 16.30 a venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9 nella sala convegni della Camera del Lavoro in via della Repubblica 68. Il lavoro prima di tutto, il quadro emerso dei congressi preparatori di quello provinciale, mette in evidenza molte difficoltà, troppi disagi, patiti soprattutto dalle fasce deboli della popolazione. Secondo gli ultimi dati, dallo studio del bilancio IMSS in provincia di Foggia, l'occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, eccetto la crescita occupazionale registrata nei servizi turistici e commerciali, nell'industria e agricoltura, a fronte però di un notevole calo nell'edilizia. La diminuzione degli inattivi si è riflessa in un aumento del tasso di disoccupazione che in Puglia si attesta al 20,2%, circa 0,6 punti percentuali in più rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Soffrono gli over 45 anni che hanno perso il lavoro, non riescono a ricollocarsi, vivono un limbo di attese e precariato, i giovani e le donne sensano occupazione. Foggia in sofferenza a cominciare proprio da qui che in troppe realtà urbane ci sono intere zone abbandonate, a incurie e degrado con il permanere di barriere architettoniche e di civiltà dovuta anche a un traffico veicolare caotico, con parcheggi senza regole, marciapiedi dissestati e pericolosi, dove non c'è cura della città, si aggravano le condizioni disagio della cittadinanza. Anche per questo la SPCGL ha moltiplicato le iniziative di aggregazione sia con Carosello che con il pullman dei diritti e le tante occasioni di incontro che combattono la solitudine e animano le piazze per restituirle alla gente, alle famiglie, ai bambini e agli anziani, che continuano a lottare per una società migliore e per il futuro di figli e nipoti. Il disastro ambientale di Cerignola, con tonnellate di immondizia per strada e poi ammassata all'interporto, è solo la punta di un iceberg. La questione relativa al ciclo dei rifiuti riguarda anche la salute dei cittadini e richiama in modo inquietante anche l'allarme sulla forte incidenza di alcune gravi patologie. La stasi o l'andamento al rallentatore dei piani sociosanitari di zona, inoltre è una problematica che incide fortemente sulla qualità della vita delle popolazioni. Così come le liste d'attesa per gli esami medici, nella maggior parte dei comuni della Capitanata mancano luoghi e spazi attrezzati all'aperto e non dove le famiglie, i bambini e gli anziani possono stare insieme, essere protagonisti di iniziative culturali, ludiche e sportive. Più di 2.000 persone partecipanti, 22 tra città e paesi della Daunia, toccati dalla carovana congressale. 1.843 chilometri percorsi in 30 giorni intensi, ricchi di partecipazione, sono questi numeri che dalla fase preparatoria del congresso provinciale affoggia a quei numeri che sintetizzano i congressi locali svolti da settembre dal sindacato pensionati. Se ne aggiunge un altro, saranno 76 i delegati chiamati a votare i documenti che delineano lotte, azioni, priorità del sindacato sul lavoro, giovani, pensioni, diritti e stato sociale. I congressi che hanno preparato l'appuntamento più importante, quello del congresso provinciale, si sono svolti a Biccari, Rignano Garganico, Apricena, San Paolo Civitate, Pietra Monte Corvino. Sono proseguiti poi a Foggia, Monte Sant'Angelo, Zapponeta, Cagnano, Torre Maggiore e Cerignola. Dopo Casa del Popolo di Giuseppe di Vittorio, i congressi hanno toccato San Nicandro, Lucera, Mattinata, Ischitella, Viesse, Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Orsara e infine Orta Nuova. La questura di Foggia ha notificato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per periodi diversi, fra 1 e 5 anni, ad 8 pericolosi pregiudicati appartenenti alla criminalità comune organizzata al locale. Tali misure sono state richieste al Tribunale di Bari in base alla nuova normativa del codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, come modificato dalla legge 17 ottobre del 2017, numero 161. Per 5 di loro la richiesta è stata effettuata dal questore di Foggia per 3 di essi invece dal procuratore della Repubblica di Foggia. Infatti gli organi competenti a richiedere tale misura di prevenzione personale al Tribunale di Bari sono sia il questore che il procuratore, che così come ormai accade sistematicamente in questa provincia, hanno lavorato in pieno coordinamento su tale materia, ritenuti dagli stessi particolare efficacia per comprimere le azioni di pericolosi soggetti in fase preventiva. Con tali misure la Polizia di Stato, nello specifico appartenenti alla divisione anticrimine e dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura e la Procura della Repubblica di Foggia hanno imposto ad otto pericolosi pregiudicati significative e restrizioni della libertà personale attraverso pesanti misure limitative, compreso l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l'obbligo di stare a casa nelle ore serali e notturne. La sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza si applica ai soggetti che vengono ritenuti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità, in particolare a quei soggetti che sulla base di elementi di fatto debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi. Si sospetta vivano abitualmente per la condotta e il tenore di vita, anche in parte con i proventi di attività delittuose, siano sospettati di essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Queste misure rappresentano un altro importante passo in avanti nell'opera di ripristino della legalità nella provincia di Foggia di restituzione del suo territorio alla collettività, sottoponendo soggetti pericolosi a specifiche forme di controllo e pesanti restrizioni di movimento che ove violate comportano l'arresto immediato e la conduzione in carcere. Il ricorso alle misure di prevenzione rappresenta inoltre un'altra delle modalità con cui la squadra Stato sta caratterizzando la sua azione sul territorio in piena sinergia e coordinamento fra coloro che la convongono contro ogni forma di legalità e criminalità comune ed organizzata. Peraltro nei mesi scorsi la questura di Foggia ha potenziato la struttura operativa dell'Ufficio Misure Prevenzioni Personali e Patrimoniali, ritenendo il ricorso a tali misure di formidabile efficacia nel contrasto della criminalità comune ed organizzata locale. Ciò ha determinato un'immediata elevazione del numero delle sorveglianze speciali a carico di pregiudicati appartenenti e non come desumibile dai dati in calce e come presente comunicato. Il ricorso alle misure di prevenzione personali e patrimoniali costituisce anche peraltro fondamentale strumento adottato nell'ambito del cosiddetto progetto Mattinata, strategia elaborata nella citata materia alla luce della evoluzione relativa al comune di Mattinata, ritenuto centro nevralgico, per la sua posizione centrale fra Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Vieste, finalizzata al completo risanamento di quel territorio sia sotto il profilo amministrativo che giudiziario di prevenzione. Ciò in stretta sinergia con Prefettura, Procura della Repubblica, Arma di Carabinieri e Guardia di Finanza. I fatti risalgono allo scorso 11 agosto, quando un uomo pregiudicato, classe 84, del posto già arrestato qualche settimana fa per una brutale aggressione con tanto di coltello ai danni dell'ex compagna era abusivamente entrato insieme ad altri complici rimassi al momento sconosciuti in un fondo agricolo nelle campagne di San Ferdinando di Puglia, impossessandosi di circa sette quintali di pesche. Il proprietario del fondo, avvisato di quando stava accadendo, aveva immediatamente raggiunto la sua proprietà, sorprendendo tre uomini a fare razia dei suoi prodotti. I tre, vistisi scoperti anziché abbandonare tutto e fuggire, si erano avventati contro il malcapitato, minacciandolo anche di morte, riuscendo così a portare via le pesche che erano riusciti a prendere. Le immediate indagini condotte dai carabinieri della stazione di San Ferdinando di Puglia, sotto la direzione del comando della compagnia di Cerignola, avevano permesso di identificare proprio uno dei tre malfattori. Il GIP del Tribunale di Foggia, concordando pienamente con le indagini dei carabinieri e con la successiva richiesta del pubblico ministero, ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a suo carico in quanto gravemente intiziato del reato di rapina aggravata che è stata eseguita. Sono comunque ancora in corso le indagini per risalire all'identità dei complici dell'arrestato. Grazie per la visione!